C'è il motto dell'Unione Europea, uniti le mie diversità. La diversità è una ricchezza, bisogna lottare ogni giorno, impegnandosi a cambiare come abbiamo fatto a Napoli e dimostrando di come il Parlamento si ha qui indietro rispetto alle persone, rispetto a questi grandi momenti di mobilitazione. Oggi non stiamo parlando di aria preta, oggi parliamo di diritti, di diritti d'uguaglianza, come dice l'articolo 3 della Costituzione. Tra qualche giorno, in attesa che il Parlamento si svegli, vediamo la cittadinanza onoraria con una carta di tutti i diritti ai figli degli immigrati che nascono a Napoli. Non bisogna prendersi la parola di Costituzione e poi non applicarla, bisogna applicarla. Grazie